Quali carte torneranno nel TCG di One Piece della Banned Restricted List dopo l'annuncio della Bandai? Che impatto avrà tutto ciò sul meta? E quali deck potranno giovarne maggiormente? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siete pronti? Il rosso che si è visto addossare diverse limitazioni in questi ultimi mesi sta tornando e con esso anche tutti gli elementi sia vietati che limitati. Proprio così. Infatti la Bandai ha annunciato nella notte tra il 30 novembre ed il primo di dicembre che tutte le carte rosse fatte eccezione per la Moby Dick sarebbero uscite dalla restrizione tornando a piena disposizione di ogni aspirante re dei pirati che, dall'8 sempre di dicembre, potranno quindi usufruire ancora una volta del servizio fornito da character ed event che hanno reso la tonalità cremisi la più temibile in assoluto. Ma cosa comporterà tutto ciò? Nel video di oggi ne parleremo comprendendo in primo luogo quali saranno le carte tornate disponibili, in quante copie e quali saranno i leader che ne beneficeranno maggiormente dopo che ci sarà il via libera per l'utilizzo di tali carte. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le carte che usciranno dalla lista delle bandite illimitate nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Come abbiamo già accennato dall'8 di questo mese, Marco Accosto, sia 4 che 5, Barba Bianca Character e Radical Beam potranno tornare ad essere giocate in 4 copie per deck, cosa che prima non poteva essere fatta per via della loro limitazione ad un singolo elemento per mazzo. Mentre Nami, Curly Dadan e Barba Leader verranno svincolati dal peso della Banned, tornando, anche in questo caso, ad essere giocate in quante più copie possibili. Arconte, ma come? Non si rischia che in questo modo il meta torni ad essere dominato dal rosso? Analizziamo per bene la situazione. Già dallo starter dei tre capitani, con l'arrivo di carte come Luffy Accosto 10 e Kid, un sentore di tornare sui propri passi da parte della Bandai, l'ho immaginato. Perché? Luffy, rosso, viola è l'unico, oltre al paparino, a possedere 6k di forza attualmente in gioco, e ciò li mette quasi sullo stesso piano. Per non tacere di low, che con l'arrivo di OP05 avrà molti più supporti, è la venuta di un altro Luffy, quello viola con Sagazuki, che daranno molto filo da torcere a tutti i deck che fino alla promozione della Bandai spadroneggiavano indiscussi. Grazie anche a carte come le ROC, i 3000, l'arrivo di Borsalino costo 7, lo stesso Kaido costo 10 blu e i già visti low costo 4 dello starter, il gran numero di counter in mano al baffo faranno meno paura. E invece per gli Zoro? Lo spadaccino, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, anche in 05 sarà un leader tier 0 o 1, proprio perché a lui, diciamocelo, serve ben poco più rispetto a quello che già ha, ed incarnando appieno lo stile agro puro, dovrà assolvere come al solito lo stesso compito che svolgeva in passato, ovvero picchiare come un fabbro e basta. C'è un altro monito che però giunge infine. Non solo Zoro beneficerà del ritorno di Nami, Curly e compagnia, ma anche e soprattutto i già menzionati ibridi, a partire da Luffy e Loh, che riceveranno un grande supporto da parte delle neorientrate. Per cappello di paglia, l'aggiunta in più copie di Barba, magari al posto di un Kaido o dei Bullet, di certo non farà che bene. In più, al posto dei Garpoint potrà tornare anche il quartetto di Radical, che con quei più mille di potenza in più faranno comodo, calcolando che, con tre video a supporto, arrivare a due sarà facile, come dire, Amen. Mentre per Loh ci saranno i Marco Blocker, che, attraverso l'effetto del Medico della Morte, potranno entrare in campo fornendo più struttura all'intero deck. Per non tacere della ricomparsa di Nami, che potrà andare a cercare per Luffy i suoi alter ego a costo 10, anche se reputo a questa scelta piuttosto azzardata. Mentre per Trafalgar... no, la rossa a Trafalgar non servirà. Ma tornerà utile a Mazzi come il mio amato Luffy Rosso ed Ace, anche se quest'ultimo in misura minore rispetto al primo, che ora possiederanno entrambi un rinnovato vigore, grazie anche ai supporti forniti dal decimo capitolo dei tematici. Per la prima versione di Paglia, infatti, ci saranno anche i Sanjirash a costo 6, che potranno dare non poco fastidio alle difese rivali, i Jinbe, utili sia con i loro effetti a supportare quello di Nico Robin, che per i loro counter più 2000, le Sumo Slap, che saranno un validissimo rimpiazzo se vi mancheranno le Red Oak, e le Gatling, che, all'occorrenza, rinforzeranno il settore già dominato dai Pistol e i Firefist. Ah, già sogno un deck full Strawout Crew, pronto a dar battaglia all'intero palcoscenico dei contendenti che popoleranno i mari. E chi d'arconte? Il rosso-viola è stato il più bistrattato tra i tre leader, ma già dall'otto conto di vedere il magnetico in una veste del tutto nuova. Soprattutto perché, rendiamoci conto di ciò, ha una base di partenza davvero niente male, e attaccherà ad ogni turno, volendo, per 6-7k a seconda delle vite a sua disposizione. Aspetto non da sottovalutare. Inoltre, la presenza di Eustace, Killer, Hit, Wire e Punk Vice, sempre dal medesimo starter del leader in questione, e l'arrivo con Awaking di carte come Punk Rotter, event fortissimo, la controparte character a costo 5 blocker, che sarà ricercatissima, ne sono certo, lo stesso killer sercino è When You're At Sea You're Fighting Again Paid It, che svolgerà lo stesso compito ma in forma ridotta del vice mascherato che abbiamo appena menzionato, Kid di sicuro si ritaglierà uno spazio d'onore nella fascia alta del tier di questa OP05. Quindi aspettiamoci un'era piena di colpi di scena, dato che il numero di aspiranti al titolo di Rede Pirati sarà molto alto, ed ogni Corsaro o Marine più temuto avrà a propria disposizione un arsenale micidiale di carte da disporre in campo. E la cosa che più mi piace è che non si avranno limitazioni di alcuna sorta, spetterà a voi montare la miglior versione del deck che intenderete utilizzare in questo meta in arrivo per contrastare o favorire il ritorno del colore più temuto. E voi, come avete preso la notizia da parte della Bandai? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.